A Francesco Grande, che rappresenta in questo senso CRIF, che è una società peraltro bolognese, importante perché è il Credit Bureau italiano come riferimento, che ci parlerà dei reti esterni come strumento essenziale per attrarre investitori e capitali. Cioè, proprio le parole chiave che ha citato proprio Giovanni Agliassa proprio qualche minuto fa. Prego, Francesco. Perfetto, grazie. Buonasera a tutti. Mi fa... si sente, sì. Fa piacere che il mio intervento arrivi subito dopo quello del dottor Agliassa, perché secondo me si pone proprio in una... insomma, sembra quasi... Che lo vicino. Sì, sì. Vicino al mento. Perfetto. Ecco, il dottor Agliassa parlava prima di un contesto, di un mondo che cambia. E in effetti il mondo sta cambiando veramente attorno a noi molto velocemente. In questo contesto che cambia, noi siamo convinti che il rating esterno sia destinato ad assumere un ruolo sempre più nevralgico. Uno strumento essenziale, dice il titolo, per attrarre investimenti e capitali. Nonostante, diciamo, forse il momento di... Possiamo parlare di quasi di... Insomma, la credibilità oggi delle agenzie di rating, forse ai minimi storici, dopo tutto quello che è successo. Ebbene, noi riteniamo invece che il rating, appunto il rating esterno, in un contesto normativo che come vedremo, che è quello che regola l'operatività delle agenzie di rating, sta cambiando, è cambiato radicalmente negli ultimi due o tre anni, il rating esterno appunto è uno strumento in grado davvero di avvicinare le imprese, le piccole e medie imprese, ai mercati. Allora, in questo contesto, CRIF ha ottenuto qualche mese fa un riconoscimento molto importante e prestigioso. Noi oggi siamo sostanzialmente la prima società italiana ad essere riconosciuta come agenzia di rating. Siamo stati riconosciuti in Italia da CONSOB, a livello europeo c'è una nuova autorità che si chiama ESMA, che regola l'operatività appunto di tutte le agenzie di rating, e noi oggi, nel nostro piccolo, siamo sostanzialmente un'alternativa, rappresentiamo un'alternativa, un'alternativa italiana in un contesto europeo, perché i nostri rating sono riconosciuti in tutti i paesi dell'Unione Europea, siamo l'alternativa ai tre colossi delle cosiddette tre sorelle, le big tree americane, e anche alle società di rating forse meno conosciute, ma che in realtà fatturano anche di più delle big tree, che sono le agenzie di rating cinesi. Perché è importante anche fare sostanzialmente, inquadrare il fenomeno dei rating a livello globale? Perché siamo, come si diceva prima, in un contesto che è sempre più globale, sempre più globalizzato. Noi vediamo che negli ultimi anni abbiamo visto sostanzialmente come il PIL mondiale si sia trasferito, si sia trasferendo sempre di più da Occidente ad Oriente. E vediamo sempre di più come sostanzialmente, in questo contesto, la crisi non è la stessa dappertutto, e sostanzialmente la crisi economica richiede sempre di più che ci si avvicini, che si incontrino, che si avvicinino, dei mondi che sono più liquidi, e oggi i mondi del Far East sono liquidi, si avvicinano sempre di più ai mondi meno liquidi, che sono i nostri. E anche il nostro Paese, e anche le nostre piccole e medie imprese, il nostro Paese che ha fatto il tessuto di piccole e medie imprese, deve essere pronto ad accogliere il capitale proveniente dall'estero. Tra l'altro, se questo è un contesto globale, vediamo che anche all'interno dell'Unione Europea ci sono molte differenze, l'abbiamo visto prima. La Germania, per esempio, è stata, qualche giorno fa, a maggio, è interessante vedere l'articolo, questo trafiletto che è uscito su un giornale, tra l'altro anche il Tempo, che dice sostanzialmente che in Germania hanno un problema che è opposto a quello nostro, che è quello italiano. Le banche tedesche hanno bisogno di fare credito, perché le imprese in Germania hanno ridotto drasticamente i volumi di affidamento, soprattutto hanno ridotto il tiraggio, l'utilizzo degli affidamenti. Quindi vedete che in Germania ci sono banche, a questo punto, liquide, che hanno bisogno di imprese da finanziare. In Germania è non tanto lontano da qui. Quindi il vero tema oggi è quello di internazionalizzare il mercato del credito, in particolare in Italia. Perché la cosa strana, la cosa davvero su cui tutti dobbiamo probabilmente riflettere, è il fatto che oggi noi siamo sostanzialmente in un mercato, oggi siamo, lo dicevamo, se guardiamo il conto economico di un'impresa media, vediamo che il suo conto economico è quasi tutto globalizzato, i ricavi sono globalizzati, ho bisogno, lo si diceva prima, di aggredire l'impresa, bisogno di aggredire nuovi mercati. I costi di produzione anche, si tende a sostanzialmente ad acquisire le risorse produttive laddove costano, costano meno. Che cos'è che però, soprattutto in Italia è ancora primitivo, è ancora molto localizzato, se ci pensiamo, è il mercato del credito. Prima si diceva, appunto, noi siamo il paese bancocentrico, ma non siamo soltanto un paese bancocentrico dove sostanzialmente la gran parte dei fondi delle imprese passano, vengono intermediati dal canale bancario. Ma siamo anche il paese in cui le banche sono delle banche di prossimità. io sono un'impresa per rivolgermi, se ho bisogno di finanziamenti, vado, mi sposto di poco, tendo ad andare dalla banca più vicina a chiedere un credito. Ecco, così è stato fino ad oggi, così non può continuare ad essere, anche perché il sistema bancario da solo non può fare, non può reggere tutto il peso della finanza di impresa.